Sabato 22 giugno, Routino presenta una manifestazione esclusiva e all'avanguardia, il Pop Village prima edizione, dove si esibiranno gli youtuber più influenti del momento, i Pantellas, Casa Surace, Aved, Riccardo Dose, Vittorio Loffredo. I fan potranno vedere le loro esibizioni sul palco, fare domande, scattare fotografie, selfie e autografi in modo del tutto gratuito. L'iniziativa, realizzata attraverso il POC Campania e organizzata da circa 30 giovani di Routino con il supporto del sindaco Giuseppe Rotolo e l'intera amministrazione, è innovativa e originale, sicuramente un evento che si inserisce nelle attività di spettacolo più rilevanti nel territorio cilentano. Oltre alla formula dell'intrattenimento, i giovani di Routino hanno avuto l'intuizione di creare un attrattore turistico anche per il futuro, in modo da innescare gli ingranaggi dell'accoglienza e della socializzazione, materia assolutamente congeniale al Paese degli Angeli. Altra nota rilevante si evidenzia nel brand Routino in Cilento, che sta spopolando tra TV e web con una formula di comunicazione simpatica, originale ed efficace. Allora, di cosa si tratta? Ah, beh, mi due di testa per colpire la Terra. Ah, meno male, Vera, pensavo che doveva... COSAAA! VittoFamily, notizia importantissima, prendete nota, mi raccomando. Ci vediamo sabato 22 giugno al Pop Village di Routino, in provincia di Salerno. Sarevo io, Vera, e faremo un sacco di foto. Buongiorno, VittoFamily, io sono Vittorio e lei è Vera. Ciao ragazzi, il 22 giugno saremo al Pop Village a Routino dalle 17. Venitevi a pigliare una cosa che ci facciamo una foto insieme. Pasqui! E io, che è? Pasqui, ma che stai facendo? E vabbè, mi sto arrivando a fare i selfie. Ma con le luci, i cosi... E io, non so trovare i selfie che sei importante. Ciao amici. Volevamo dirvi che questo sabato 22 giugno saremo al Pop Village di Routino. Vi aspettiamo numerosissimi. E balleremo e canteremo italiani in vacanza! Po-po-ro-ro! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-po-po-ro-ro! E vi aspettiamo per foto, autografi, abbracci, baci, carezze, salti. Ci vediamo a Routino.